L'agriturismo tenuta a Mirabello presenta la prima festa del grano nei giorni 29, 30 e 31 luglio. La rievocazione della storica trebbiatura, la realizzazione della meta, la dimostrazione di mestieri antichi, la degustazione di prodotti tipici locali e l'intrattenimento musicale sono i contenuti del programma della manifestazione che prevede nel dettaglio, venerdì 29 dalle ore 17, l'apertura degli stand enogastronomici dell'agriturismo, gli stand espositivi di vario genere e di animali. Alle ore 17 e 30 la sfilata dei mezzi e delle attrezzature d'epoca con strumenti musicali, canti e balli della tradizione culturale contadina, cavalli e cavalieri per raggiungere i cignoni, le cataste di fascine dette regne. Seguirà la benedizione del grano. Alle 18 la dimostrazione dell'antica trebbiatura in costume con mezzi d'epoca. Durante la trebbiatura un gruppo di giovani realizzerà la meta, l'antica struttura a forma di cono dove viene depositato e pestato il fieno e la paglia intorno ad un palo. Dalle 19 e 30 ci sarà la dimostrazione di mestieri antichi e la degustazione di prodotti tipici locali con intrattenimento musicale. Il programma di sabato 30 e domenica 31 luglio prevede dalle 10 l'apertura degli stand enogastronomici dell'agriturismo e degli stand espositivi di vario genere con l'esposizione di animali. Subito dopo la passeggiata a cavallo all'interno della tenuta Mirabello e della tenuta Sugarelle della Regione Lazio, ci saranno le gite panoramiche con il trenino dell'agriturismo e le escursioni con le barche della Cooperativa di Pescatori del Lago di Fondi. Alle ore 12 e 30 si svolgerà il pranzo all'aperto e alle 17 l'escursione cicloturistica amatoriale non agonistica organizzata e guidata dalla Società Ciclo Amatori di Fondi nella persona di Gino Marcantonio e i suoi collaboratori. In questo caso è importante segnalare la partecipazione, che è gratuita, agli organizzatori. Alle ore 18 la dimostrazione dell'antica trebbiatura in costume con mezzi d'epoca dei mestieri antichi e la degustazione di prodotti tipici locali con intrattenimento musicale. Appuntamento dunque all'agriturismo tenuta Mirabello sul Lago di Fondi a Borgo Sant'Antonio in via Sucarelle 2574. Per informazioni contattare i numeri 0771 599613 328 44 98 407.